Con la nuova applicazione di ora che vengono scelerate di Facebook ufficiali ha accesso alle pagine cui lei è amministratrice e pubblica il nome della pagina non so come si chiama signora Bagno e toglie no lei come fessore Laura Laura Laura, ok, non pubblica come laurea e quindi pubblica come bagno e pubblica a chi è fan quindi dei suoi amici personali come laurea se non sono fan della pagina non vede niente ma lo vedono i fan si creano diciamo due situazioni parallele ma separate se poi uno oltre ad essere amico suo e anche fan vede il post allora io direi una cosa mi dispiace interrompere però quello che vorrei allora quello che vorrei ottenere per il bene insomma per riuscire a portare a casa qualcosa in completo per l'obiettivo che ha questo corso questo seminario non è un corso di AdWords o un corso di Facebook dobbiamo riuscire a toccare gli argomenti che Antonio poi doveva parlare che sono altri social network e vi garantisco bene chi li conosciate e qualcosa del mobile georeferenziazione qualcosa perché è importante che lo sappiate qui su Facebook siamo arrivati a livello 7 di profondità di là siamo 0 però vi garantisco che arriviamo almeno a 1 perché un seminario importante che mi rimanga chiederei rapidamente a Michele di chiudere la famosa campagna quindi la campagna che lui ha pensato è stata intanto ho un'occhiata a Analytics ah scusate a Insight poi preparo un bar